La, guarda come sale, vedi come abbassa Guarda, guarda come sale, che cosa è questo? Sale e si muove pure È una cosa strana, vedi? Scende e sali Si è vicino Si è vicino No, non si è vicino, si abbassa e si avviene C'è una cosa strana là dietro di quello Devi tenere premuto per forza là Mantenelo ancora Allora 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 Allora